Capitolo 17 Gesù disse queste cose, poi, alzati gli occhi al cielo, disse Padre, l'ora è venuta, glorifica tuo figlio, affinché il figlio glorifichi te, già che gli hai dato autorità su ogni carne, perché gli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Ora, oh Padre, glorificami tu presso di te, della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Erano tuoi, e tu mi l'hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora hanno conosciuto che tutte le cose che mi hai date, vengono da te, poiché le parole che tu mi hai date, le ho date a loro, ed essi le hanno ricevute, e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi, e tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno, come noi. Mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati, li ho anche custoditi, e nessuno di loro è perito, tranne il figlio di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Ma ora, io vengo a te, e dico queste cose nel mondo, affinché abbiano compiuta in se stessi la mia gioia. Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali, nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io santifico me stesso, affinché anch'essi siano santificati nella verità. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me, per mezzo della loro parola. che siano tutti uno, e come tuo, Padre, sei in me e io sono in te. Anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data. Poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato e io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro.